Luci e ombre sui dati dell'incidentalità nella provincia di Rimini per l'anno 2011. Presentati dall'ente provinciale, sembra proseguire il trend positivo che lentamente vede calare il loro numero. Rispetto al 2010, il numero totale di incidenti si vede calare dell'1,6%, attestandosi a 2.215, con 24 morti, uno in più rispetto all'anno precedente e 3.068 feriti, meno 0,8 sull'anno prima. Dati ad ogni modo importanti, che vedono un costo sociale calcolato su morti e feriti che si attesta a quasi 260 milioni di euro. Rispetto a 10 anni fa, conforta però la riduzione del 64% dei morti sulle strade, rispetto ad una generale diminuzione di sinistri del 29%. Maglia nera in provincia di Rimini sul numero di feriti, la strada statale è 16, con 269 casi, mentre è curioso il dato che vede nei rettilinei i tratti più pericolosi. Un calo di incidentalità che va però di pari passo con l'ammodernamento delle esistenti infrastrutture e la costruzione di nuove, per cui però l'ente provinciale vede calare i contributi pubblici nazionali per la loro realizzazione. Se guardiamo il nostro bilancio come ente provinciale, da dicembre quando è stato approvato in consiglio provinciale ad oggi, abbiamo già avuto una riduzione di più di 4 milioni di euro. Il calo degli incidenti ormai sta diventando un trend positivo, insomma, dagli ultimi anni, quindi vuol dire che le politiche messe in campo dalle pubbliche amministrazioni, quindi non solo dalla provincia di Rimini ma anche dalle amministrazioni comunali, hanno portato dei frutti importanti.